Siamo interessati, ci parlerà di ridistribuzione. Ieri ero a Pontida, è stato un successo per il presidente Meloni e anche per il segretario Salvini. Poi io naturalmente colgo l'occasione, visto che siete tutti qui, di invitarvi nuovamente all'Expo ID di Rimini, che lo so che è una cosa che non vi interessa tanto quanto le altre, però davvero è molto importante anche il tema sociale. Io ieri dal palco di Pontida ho lanciato il tema indispensabile della semplificazione e della sburocratizzazione e ce la metterò tutta per rendere più facile la vita delle famiglie. Rimini sarà un punto di incontro anche per voi giornalisti, quindi io mi aspetto che veniate in tantissimi per parlare con le associazioni e con il mondo sociale. Il punto di vista sociale c'è ancora di ridistribuzione. Noi a Rimini parleremo di altro, adesso vado in consiglio ministro e vedo di cosa parleremo di migranti. In consiglio dei ministri parleremo di tutto, lo faremo lì e quindi poi sicuramente verranno a darvi tutte le informazioni che state chiedendo. Quindi sarà risolutivo oggi? Grazie. Ci sarà sicuramente il presidente Meloni con gli altri ministri coinvolti direttamente che daranno le loro informazioni a tutti voi che siete qua in attesa. Grazie. Grazie. Buon lavoro.